Eccoci qua, torniamo insieme e ci spostiamo a Tortoreto. Lo facciamo con il sindaco Generoso Monti, detto Gino. Buongiorno. Buongiorno sindaco, benvenuto. E con Mauro di Buonaventura, segretario della sezione del Partito Democratico di Tortoreto. Benvenuto anche a lei. Dunque, intanto cominciamo con il ricordare quello che è stato un evento importante per Tortoreto, ovvero l'inaugurazione del sottopasso che si è svolta proprio nella giornata di ieri mattina. Possiamo anche vedere a tal proposito alcune immagini che abbiamo realizzato. Sindaco, un momento, dicevamo anche ieri, importante per Tortoreto perché giustamente dopo tre anni c'è la possibilità di dare anche maggior vita a quella zona. Se parliamo del sottopasso lo ricordiamo di via Trieste. Sicuramente è stato un giorno importante perché, come lei rappresentava, dopo tre lunghi anni di chiusura c'era questa grande aspettativa e la dimostrazione che era una cosa molto sentita è stata rappresentata dalla grande presenza dei cittadini nonostante la giornata lavorativa. Il sottopasso di via Trieste chiaramente ha creato molte difficoltà. io chiedo scusa a tutti i cittadini che hanno sofferto per questa chiusura, però era anche necessario perché il sottopasso si doveva realizzare e quindi è chiaro che si doveva fare e in qualche modo c'è stato bisogno di questo sacrificio. Certo, i tempi potevano essere più brevi perché se andiamo a vedere da quando sono iniziati i lavori alla riapertura sono passati 12-13 mesi, poco più di un anno. Non si capisce come mai due anni abbiamo avuto questo sottopasso chiuso, i lavori non iniziavano e quindi le ragioni sinceramente non si capiscono. Comunque, ieri dicevo che bisogna voltare pagina perché adesso finalmente il sottopasso è funzionante e quindi quelle attività che hanno sofferto adesso possono riprendere a lavorare in modo normale, ma io credo che la riapertura di quel sottopasso non è soltanto la risoluzione dei problemi di via Trieste, ma io credo che abbiamo aperto una via per uno sviluppo sociale ed economico di tutto il paese. Certo, naturalmente ricordiamo che è un sottopasso utilissimo anche ai numerosi turisti che tra qualche mese si riverseranno su Tortoreto che è noto a tutti i terramani e non solo è una città che veramente d'essate si riempie di turisti, di terramani che hanno anche tanti appartamenti insomma a Tortoreto e che quindi vivono questa realtà. Allora, Mauro di Bonaventura, penso che insomma anche al centro-sinistra faccia piacere che sia stato finalmente, come ha sottolineato il sindaco, aperto questo sottopasso inaugurato. Intanto vediamo la doppia inaugurazione, in entrata e in uscita, diciamo così, anche per non scontentare nessuno, è vero? Esatto, lato mare e lato... Certo, e lato... C'è da dire che se bello vuoi apparire un po' devi soffrire. E certo. Giustamente il periodo di chiusura e riapertura del sottopasso è stato un po' lungo e quindi le attività economiche hanno subito dei danni. C'è da dire che ieri era una giornata di sole, era una giornata stupenda, bellissima e lo stesso è stato anche bellissimo per la partecipazione delle persone che erano veramente contente di questa apertura del sottopasso che è come se fossero rinate. È vero. Effettivamente questo sottopasso è bello, è funzionale, c'è da dire che il centro-sinistra l'ha pensato, ha trovato i fondi ed è stato realizzato. Sui tempi possiamo discutere, ma purtroppo i tempi... ci sono di mezzo i tempi burocratici, ci sono di mezzo i tempi di costruzione, ci sono i tempi dei progetti, delle rivisitazioni... Purtroppo si è un pochettino a lungo, però diciamo che con ieri questa storia è chiusa e Via Trieste torna veramente a vivere. Perfetto. E dicevamo appunto una zona che viene utilizzata ovviamente anche per la viabilità dei numerosi turisti che arriveranno presto a Tortoreto. E ovviamente i turisti arrivano con le proprie auto, attraversano il lungomare Sirena, magari fanno anche un giro sotto questo nuovo sottopasso e poi devono parcheggiare. Eh già, perché le macchine vanno parcheggiate e proprio sui posti auto sul lungomare c'è stata una polemica da parte del Partito Democratico, in particolare del centro-sinistra nei confronti del sindaco, perché lei avrebbe dichiarato subito dopo la sua elezione che avrebbe tolto le strisce blu. E invece ovviamente questo non è stato possibile in quanto c'è una convenzione con una determinata società che durerà ancora del tempo. E quindi? Intanto ho una precisazione per quanto riguarda il sottopasso, perché io ho dato atto e merito a tutti gli amministratori che hanno partecipato e hanno in qualche modo, si sono adoperati per la progettazione di questo sottopasso. Tant'è che ho invitato gli ex sindaci a presenziare appunto l'apertura, oltre agli assessori ai lavori pubblici che si sono succeduti nei vari anni. Erano presenti, mi ha fatto molto piacere, però per la verità dobbiamo dire le cose come stanno. Non è stato pensato dal centro-sinistra questo sottopasso, né realizzato dal centro-sinistra. È stato un obbligo delle ferrovie ed è stato realizzato a spese delle ferrovie. Chiaramente quelle amministrazioni che in quel momento amministrava il nostro comune si sono dovute adoperare per realizzare una progettazione e quindi poi chiaramente si sono adoperate per cercare di fare tutto quello che era necessario per poter portare avanti questo progetto. In merito a tutto ciò, un'altra precisazione sul sottopasso via Carducci, un sottopasso che noi ci siamo trovati già appaltato, che però non aveva le caratteristiche secondo noi di qualità e di funzionalità per quella via, che non dimentichiamo che è una via storica attorno alla quale è sorto il paese di Tortore Dolido, perché era un buco sottoterra, largo 3 metri, basso 250, insomma con tante difficoltà. Noi da quel momento ci siamo adoperati, devo dire, devo ringraziare anche i dirigenti delle ferrovie che si sono stati disponibilissimi rendendoci conto anche sulla base di un'assemblea pubblica dove i cittadini chiaramente sono rimasti meravigliati in modo negativo di questo progetto, ci siamo adoperati e ci siamo impegnati per cercare di migliorare. Ci siamo riusciti, si realizzerà adesso un sottopasso di 4 metri e 20 di larghezza, 2,80 di altezza e sarà dritto, nel senso che in asse con la via Carducci. Per quanto riguarda i parcheggi anche qui ci sono delle falsità, perché io in ammagno elettorale non è vero, lo smendisco categoricamente, non ho detto che toglievo i parcheggi a pagamento, perché questo non era possibile, in quanto c'è una convenzione che ha stipulato il centro-sinistra con il sindaco di Matteo, con una ditta di Perugi che gestisce questi parcheggi per sei anni. Quindi come io potevo dire che toglievo i parcheggi a pagamento se c'era un contratto? Non l'ho detto, io ho detto e lo ribadisco che idealmente sono contrario a questo parcheggio a pagamento, ma io non sono contrario ai parcheggi a pagamento, io ho fatto questo tipo di discorso in campagna elettorale, lo ricordo bene. I parcheggi a pagamento sono possibili, ma sono possibili laddove c'è anche la possibilità di parcheggiare senza pagare, nel senso che la comodità, chi vuole parcheggiare la macchina sul lungomare si può anche avere il parcheggio a pagamento, però questo parcheggio a pagamento si può avere soltanto quando a distanza di 300-500 metri ci sono dei parcheggi liberi, così che se io cittadino, turista, voglio la comodità mi parcheggio sul lungomare e me lo pago, se non voglio, non posso, devo avere la possibilità di poter parcheggiare a breve distanza senza pagare, questo è il concetto, quindi la mia posizione, la posizione della mia amministrazione comunale è questa qui. Per quanto riguarda poi il fatto di aver aumentato il parcheggio, il pedaggio per quest'anno è anche questo falso, perché noi non abbiamo aumentato nulla, è rimasta la tariffa di sempre, abbiamo soltanto apportato una modifica, abbiamo uniformato l'orario su tutti i lungomare, mentre prima il centro nord del Tortoreto Lido pagava fino a mezzanotte, il centro sud pagava fino alle ore 20 e qui qualcuno dovrebbe spiegare perché, noi abbiamo uniformato gli orari, le tariffe sono rimaste le stesse, però abbiamo ottenuto, abbiamo ottenuto da parte la ditta che gestisce il parcheggio, lo scondo per i residenti, l'abbonamento quest'anno costa il 50% in meno, l'anno scorso costava 120 euro per tutta la stagione, quest'anno costa 60 euro. Questa è la verità sui parcheggi pagamenti. Benissimo. Mauro di Buonaventura scuoteva ogni tanto la testa, diceva insomma non era proprio d'accordo con quanto asseriva il sindaco, come è anche normale avvenga nel gioco delle parti. Ci sono i documenti comunque. Ecco esatto, esatto, bravo. Non mi piace mai a me accusato.